Perché ultimamente si sta parlando tanto di UFO? Un argomento così borderline sui media mainstream. Come mai adesso? Fino a poco tempo fa era un argomento riservato a piccoli canali complottisti, li chiameremmo. Qualche sera fa ho fatto la stessa domanda al professor Corrado Malanga, ex docente di chimica ed ex responsabile scientifico del Centro Ufologico Nazionale, che ho già intervistato un annetto fa qui su me più. Gli ho mandato questo messaggio. E lui mi ha risposto così. E adesso vi faccio ascoltare i 21 minuti di audio che mi ha mandato dopo questo messaggio, per spiegarmi cosa sta succedendo. Un'ultima cosa. Fare informazione indipendente non è facile. Essere indipendenti non è facile. E continuare ad esserlo non è semplice per niente. Però aiutarci è facile. Vai su me più punto it. Grazie. Dunque, la questione è molto complessa, ma cercherò di essere breve. Il nostro pianeta è comandato da esseri alieni da una quantità di tempo immemorabile. Sicuramente al tempo delle piramidi, cioè 40.000 anni fa, già questa cosa c'era, era presente. E soprattutto il mito la racconta. Tenendo presente il mito, tenendo presente le ipnosi regressive che io ho fatto più di 3.500 persone 10 anni fa, tenendo presente gli studi sulla piramide di Giza, quello che ne viene fuori è il seguente quadro. Ci sono diversi alieni, diversi gruppi di alieni, ma sostanzialmente ci sono due gruppi che si contendono tra di loro. La ciliegina sulla torta. Questi due gruppi di alieni sono, nel mito, chiamati i Deva e gli Asura. I Deva sono le creature di Vishnu e gli Asura sono le creature di Shiva. Asura vuol dire senza corpo, mentre Deva vuol dire sostanzialmente essere luminoso. Anche i Deva sono senza corpo. I Deva e gli Asura vogliono una cosa, la parte animica, che è in alcuni uomini. La parte animica ha la caratteristica di avere dentro l'informazione della immortalità. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che 45.000 anni fa, grossomodo, noi avevamo l'informazione che c'era una sola grande cultura su questo pianeta, che era una cultura che parlava una lingua proto-sanscrita. Questa unica cultura aveva però due poli, gli Aztlan e gli Aryan. Gli Aryan erano praticamente la civiltà dell'India, del centro e del sud, quella che oggi chiameremmo la vecchia civiltà Tamil, mentre il nord dell'India, quindi dal Pakistan in su, e tutto il resto del mondo, era sostanzialmente Aztlan, cioè Atlantideo. Gli Atlantidei erano esseri con l'RH negativo del sangue, al contrario degli Deva, scusate, degli indiani, dell'India, che avevano invece l'RH positivo. I due gruppi di alieni entravano all'interno dei corpi delle due razze. I Deva entravano nel corpo degli indiani, Tamil, quindi RH positivi, con parte animica, mentre gli Asura entravano negli RH negativi, dolicocefali, dolicocefali, che sono sostanzialmente la civiltà Atlantidea, che poi ha invaso praticamente tutto il resto del mondo, di cui si trovano infatti le vestigie un po' dappertutto, tranne che in India. Tutte e due le civiltà aliene volevano la parte animica, e solamente che i Deva avevano in qualche modo schiavizzato, come burattini RH positivi, i quali erano compatibili con la parte animica, mentre gli Asura erano entrati nei corpi degli RH negativi, dolicocefali, quelli che poi erano anche i faraoni egizi, i quali non avevano parte animica. Quindi questi ultimi dovevano vivere in simbiosi mutualistica con gli Asura, di cui erano assolutamente consapevoli, e Asura e dolicocefali, Aztlan, cercavano di prendere la parte animica degli altri esseri umani, ancora decisamente poco sviluppati, siamo praticamente nel neolitico e quindi vivevano una sorta di simbiosi mutualistica con l'alieno, quindi alieno, Asura e dolicocefalo sono insieme consapevoli e sfruttano altri esseri umani, mentre i deva e che sfruttano la civiltà tamil non hanno bisogno di sfruttare altri esseri perché i tamil sono animici. Le varie situazioni che sono accadute su questo pianeta, tra cui la caduta di una serie di meteoriti 13.500 anni fa, portavano gli Asura praticamente a quasi scomparire, o meglio, a far scomparire quelli che erano i loro carrier, cioè la civiltà atlantidea. In questo contesto Deva e Asura si sono un po' messi d'accordo per poter parassitare gli stessi corpi. I vari momenti della storia di questo pianeta sono caratterizzati dal fatto che Deva ed Asura sono a volte amici, a volte nemici. alla fine tutti e due vogliono tutta la torta e non solo una parte di torta. I Deva e gli Asura sono sostanzialmente i fondatori delle due teste della massoneria moderna. Deva ed Asura hanno infatti deciso che per avere mano libera sull'utilizzo della parte animica degli esseri umani che ne sono provvisti devono in qualche modo convincere i capi della nostra razza a fare un patto scellerato. I nostri capi infatti proprio perché sono dei comandanti ed hanno determinate caratteristiche non sono sostanzialmente animici se no non avrebbero nessun bisogno di essere i nostri comandanti e di volere il potere i nostri comandanti hanno fatto il patto con gli alieni sia Deva che Asura di cercare di non dire mai niente sulla natura degli alieni gli alieni infatti hanno bisogno della non consapevolezza dell'uomo per poter continuare a prendere la parte animica dell'uomo stesso l'uomo stesso se fosse consapevole si rifiuterebbe e se l'uomo si rifiuta l'uomo che è il creatore dell'universo per gli alieni non c'è più tripa per gatti in questo contesto le due massonerie sono la massoneria Asura che è la massoneria globalista la massoneria di Biden la massoneria di Bergoglio mentre l'altra massoneria quella dei Deva è quella delle grandi famiglie monarchiche ma non solo famiglie che sono sostanzialmente nazionaliste quindi tendono a mantenere i confini dei propri paesi tendono a dire che i panni sporchi in fondo si lavano in casa mentre gli Asura vogliono abbattere tutte le barriere per far circolare meglio il denaro che è lo strumento migliore per poter garantire la separazione tra gli esseri umani la separazione garantita garantisce anche l'abbassamento dell'entropia e quindi il non raggiungimento della coscienza quindi abbiamo per esempio due papi il papa Bergoglio che è Asura e Ratzinger che è Deva oppure altri per esempio il cardinale Viganò che è sicuramente Deva e lo dice chiaramente nei suoi discorsi quando dice la chiesa noi siamo esseri di luce lo dice a chiare parole mentre Viganò sostiene che la chiesa non deve abbassarsi a livello del popolo perché noi siamo esseri superiori dice chi se ne frega del popolo il papa Bergoglio vuol far vedere che la chiesa diventi popolare e segue quindi un percorso baideniano da questo punto di vista in questo contesto gli alieni non hanno nessuna voglia di entrare in questo pianeta fare la guerra a questo pianeta perché la loro idea è che si può venire su questo pianeta solo quando esso sia stato globalizzato cioè ci sia un solo fronte altrimenti se il pianeta non è globalizzato ci sono per esempio russi e americani uno contro l'altro è evidente che se i russi sono per gli alieni gli americani sarebbero contro gli alieni e questo renderebbe la vita difficile agli alieni allora prima ci vuole una globalizzazione del pianeta poi si interviene siccome questa globalizzazione ancora non c'è stata ed è attualmente fallita i nostri governanti che sono in accordo con gli alieni o con i Deva o con gli Asura fanno di tutto perché l'alieno non venga su questo pianeta perché se viene su questo pianeta per i nostri governanti non c'è più tripapergati perché loro non hanno più necessità di esistere loro sono in fondo il tramite tra l'alieno che vuole delle cose e il governante che le attua nell'istante in cui il governante non è più in grado di attuare le cose ecco che entra l'alieno arriva elimina il governante di cui non ha più bisogno e comanda egli subito sul popolo la situazione odierna è quella dello scontro finale tra Deva ed Asura scontro finale che è descritto assolutamente nel mito in tutti i miti della cosmogonia universale e quello che succede è che la coscienza umana è aumentata talmente tanto che bisogna fermarla questa coscienza umana altrimenti gli uomini si accorgeranno che ci sono i Deva e gli Asura e per loro sarà finita l'unico modo perché gli esseri umani non si accorgono di questo è tentare di schiacciare il popolo in vari modi sostanzialmente abbassando l'entropia del sistema in questo contesto gli Asura vogliono chiedono alla popolazione a chi comanda chiedono di dimostrare che questi nostri comandanti siano in grado di mantenere il popolo sottomesso e a questo è servita la pandemia a sottomettere il popolo a far vedere agli alieni che noi i nostri capi i nostri padroni sono ancora capaci di far ubbidire il popolo se non si riesce a fare questo allora e solo allora interviene l'alieno quindi i discorsi che vengono fatti oggi su chi dice che gli alieni interverranno o non interverranno sono discorsi che servono semplicemente a lanciare dei messaggi trasversali alle diverse nazionalità chi dice che gli alieni arriveranno sono sostanzialmente in questo momento i Deva che non vogliono che gli Asura vincano non vogliono che Biden vinca non vogliono che lo stesso Ratzinger riesca a trasformare la chiesa nel modo in cui la vuole trasformare allora i Deva dicono ma guardate che stanno arrivando gli alieni preparatevi perché gli alieni che arrivano saranno cattivi i governanti che stanno sotto gli Asura rispondono invece no gli alieni che arriveranno saranno buoni e ci vorranno tanto bene e quindi i messaggi che vengono lanciati da personaggi che sono stati anche importanti come personaggi generali dei servizi segreti israeliani oppure presidente uno dei dei ministri più importanti del Canada del ministro degli interni diversi anni fa oppure la stessa moglie del imperatore giapponese diversi anni fa che fecero dichiarazioni sugli alieni o in positivo o in negativo non facevano altro che reggere le fila ai Deva e agli Asura quello che succede oggi è la seguente cosa se i nostri governanti riescono a dimostrare che loro riescono con questa pandemia a schiacciare la volontà del popolo e a comandare ancora ecco che gli Asura non interverranno ma i Deva faranno di tutto perché il popolo in questo momento si ribelli se invece il popolo si ribella comprende acquisisce consapevolezza di sé allora gli Asura arrivano arrivano tolgono la classe dirigente che non serve più a niente e loro si mettono al potere è l'unica cosa che obo tortocollo dovranno fare e questo si vede attraverso le dichiarazioni di questi fantomatici personaggi che in qualche modo stanno reggendo il moccolo o ai Deva o agli Asura i Deva sono quegli alieni che noi abbiamo sempre chiamato Lux sono esseri luminosi gli illuminati si chiamano così perché hanno dentro il loro corpo questi signori mentre gli Asura gli senza corpo Asura sono le creature di Shiva Shiva è il dio dell'altra parte dell'universo quello fatto di antimateria quello che la chiesa chiama l'inferno il buio il nulla questa chiave di lettura permette di comprendere come siano puerili tutte le dichiarazioni che i vari ufologi nel mondo stanno tentando di fare cercando essendo stati chiamati in causa di far capire alla gente che cosa sta probabilmente succedendo ma non hanno la chiave di lettura corretta la vera chiave di lettura si trova nella massoneria la massoneria i Deva e gli Asura che nascono dall'antico gruppo dei Rosa Croce che si rifà vivo nel 1614 in Germania e in Francia ma la sua vera ragione la ragione di essere la sua fondazione è prima del 3300 avanti Cristo il fondatore del movimento dei Rosa Croce è infatti il faraone Tutmosis terzo si trova all'interno dell'inno ad Orus la frase che chiarisce che cosa sono i Rosa Croce da questo punto di vista noi stiamo facendo la guerra su questo pianeta che è una guerra voluta da altri i Deva e gli Asura che si fanno la guerra nel mito per ottenere l'Amrita l'Amrita è quel nettare che una volta bevuto darà la vita darà l'immortalità e noi ritroviamo all'interno del mito e all'interno delle ipnosi regressive che io ho fatto dieci anni fa e ne ho fatte circa 3500 esattamente questa struttura della situazione sociale chi vincerà c'è scritto nel mito non vincono né i Deva né gli Asura che sono costretti alla fine a scendere su questo pianeta e farsi la lotta tra di loro non più attraverso di noi noi siamo quelli che vincono perché non facendo niente assistiamo alla distruzione totale dei Deva e degli Asura così c'è scritto nel mito di Shiva e Vishnu questo è il quinto Yuga l'ultimo periodo in cui non c'è un sesto Yuga quindi non ci sono come nei quattro Yuga l'azzeramento il reset oggi lo chiamano che c'è stato prima un reset necessario perché mano a mano che passavano le centinaia di migliaia di anni l'essere umano acquisiva consapevolezza negli altri Yuga e a un certo punto bisognava fare il reset cioè distruggere tutta l'umanità quasi tutta l'umanità per ricominciare da capo per evitare che l'uomo comprendesse ma se uno analizza i vari Yuga scopre che questi cinque Yuga sono sempre più piccoli perché mano a mano che l'uomo rinasceva a nuova vita inconsapevolmente aveva già consapevolezza e coscienza di quello che era successo nello Yuga precedente anche se consapevolmente no ma inconsapevolmente sì e quindi gli Yuga durano sempre meno e si arriva a un punto il quinto Yuga in cui c'è un solo modo per tentare di mantenere bassa l'entropia di questo pianeta dare all'uomo la tecnologia la tecnologia è la nemica dell'acquisizione di consapevolezza se noi abbiamo il telefonino ecco che noi crediamo di poter parlare con l'altro con il telefonino e non ci rendiamo conto di poterlo fare con la nostra mente perché noi siamo i creatori dell'universo ma non lo sappiamo e gli Asura e i Deva non ce lo vogliono far sapere Asura e Deva hanno creato le due teste della massoneria che sono quindi la massoneria globalista dei ricchi industriali e la massoneria delle ricche famiglie sostanzialmente monarchiche ma non solo con questa chiave di lettura si riesce a comprendere qual è la vera natura delle dichiarazioni che certi uomini politici molto importanti fanno e si comprende quali messaggi trasversali vogliono lanciare agli altri stati che magari sono della parte nemica quello che si vedeva all'interno delle ipnosi regressive era che tutte le volte che c'era un certo tipo di alieno c'era anche vicino accanto un militare che parlava una lingua precisa quindi gli esseri umani sono stati divisi in proprietà aliene da sempre ci sono gruppi di potere sia di destra che di sinistra che in realtà sono collegati all'unica idea quella di prendere la parte animica l'ambrita degli uomini il nettare dell'idromele del dio Thoth per esempio nel mito del nord Europa oppure l'ambrosia degli olimpioi gli esseri dell'Olimpo che attraverso questo nettare vivevano in modo immortale e per farla breve quindi con questa chiave di lettura è possibile comprendere quello che realmente sta accadendo questa chiave di lettura non ce l'ha nessuno è una mia personalissima chiave di lettura che però guarda caso apre tutte le porte fare informazione indipendente non è facile essere indipendenti non è facile e continuare ad esserlo non è semplice per niente però aiutarci è facile vai su mepiù.it grazie